La prima cosa che avrà insegnato l'esperienza a Piero Brali è che nel calcio non bisogna mai arrendersi prima di giocare una partita e che dunque domani alle 20.45 si comincia come ovvio dallo 0 a 0. Certamente la mano pesante del giudice sportivo contro la formazione bianco-verde renderà la sfida contro il Padova più complessa ma sicuramente anche più interessante. Il tecnico toscano dovrà trovare soluzioni alternative per sostituire soprattutto Forte, Ilianes e Aloy ma le alternative sono piuttosto scontate. Pane è pronto a rimpiazzare il compagno come già fatto in campionato. In difesa la linea 3 sarà formata da Ciancio a destra, Dossena centrale e Laez, il più versatile del pacchetto arretrato a coprire la corsia sinistra. A centrocampo a destra ci sarà Rizzo, a sinistra Tito a completare i 5, Carriero e D'Angelo con De Francesco chiamato a sostituire Aloy. In avanti spazio alla coppia Manero-Fella con quest'ultimo che potrebbe essere utile alla causa con la sua velocità ed imprevedibilità. Santaniello che ha avuto poco spazio a causa dell'espulsione del compagno potrebbe partire dalla panchina e giocarsi le sue chance in corsa. A supportare i biancoverdi ci sarà la grinta dei pochi ma rumorosi supporters che si sono accaparrati il biglietto per la gara esterna. 50 i ticket regalati dalla società, altri 25 saranno a disposizione istituzionale. È da allora che parte il conto alla rovescia, domani alle 20.45 comincia un altro capitolo, la storia è ancora tutta da scrivere.